Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Domenica sera in autostrada. Uno scenario ben diverso dal viaggio a Itaca. Uno scenario decisamente meno bucolico. Che ci faccio in autostrada? In autostrada, Itaca, come sapete, l'ho trovata. Sono tornato a casa e ho deciso di ripartire. Per dove e come ve lo spiegherò domani mattina sulla pagina Vostok 100k. Sarà un viaggio decisamente diverso. Chi vorrà seguirmi, se avrà piacere, racconterò qualcosa di decisamente diverso. Io con l'olifante, che non è vero, ma ci credo. Me lo sono riportato dalla Grecia. Spero che mi porti fortuna in questo scenario un po' pericoloso, però io lo porto con me l'olifante. Non si sa mai. A domani. Buona sera.